Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Prism e benvenuti in questo nuovo video. Ormai è passata una settimana dall'uscita effettiva del nuovo Call of Duty Vanguard e tra stream e commenti su YouTube la domanda che ormai mi state facendo più spesso è Prism, cosa ne pensi di questo nuovo code e nel caso mi consigli di prenderlo o meno? La risposta è sì e no, però dipende soprattutto da che tipi di player siete, ma per rispondervi concretamente vedremo oggi in questo video le mie considerazioni, comunque la mia esperienza da quando è uscito effettivamente il gioco. Partiamo dal main content del canale, ovvero zombie. Modalità al centro ormai di grande discussione, privi dalla mancanza di una classica mappa basata sui round, quindi round base, e senza anche un classico easter egg. Questa mancanza però vi ricordo che sarà solamente momentanea perché tra dicembre e gennaio comunque verranno introdotte anche loro all'interno di Vanguard. Fino ad allora invece si può giocare sola la mappa deramfang, cioè quindi quella attualmente presente, strutturata per obiettivi, che una volta completati uno per uno ci permetterà di procedere ad ondate. Nulla di più. Proprio per questo motivo se avete intenzione di prendere code solamente per zombie, vi consiglio caldamente di aspettare l'uscita dei nuovi contenuti per vedere appunto verso che direzione andrà il nuovo capitolo dei non morti, insomma. C'è da dire che io attualmente non ci sto giocando proprio come facevo di solito perché mi sto concentrando magari su altro come il multiplayer che vedremo dopo. Però questo perché? Beh diciamo che per come è strutturato adesso zombie sembra solamente un grande, anzi grandissimo tutorial che ci introdurrà in una nuova storia, che vi ricordo che è il prequel di Cold War, con però nuove dinamiche che secondo me prese singolarmente sono anche molto interessanti. Allora, per chi magari non ha preso il gioco e non ha neanche avuto modo di informarsi, vediamo molto velocemente tutte le novità consistenti aggiunte in Vanguard. Allora, già entrando in partita ci troveremo davanti a tre obiettivi, che una volta completati, come accennato prima, ci permetteranno di andare avanti di round e inizialmente anche di accedere a nuove aree. Questo però fino a che non ci ritroveremo solamente con un singolo portale, che a rotazione ci condurrà in nuove mappe, come per esempio Shinonuma, molto carina, però solamente per la durata della quest, perché dopo torneremo su The Unfang. Il primo obiettivo in cui potremo imbatterci sarà Blitz, dove per un tot di tempo dovremo sopravvivere a d'ordine di zombie continui. Poi ci sarà Raccolta, in cui il nostro scopo sarà quello di raccogliere 5 rune droppate dagli zombie per sovraccaricare un preciso obelisco, per un totale di tre volte. E infine l'ultima modalità che potremo fare sarà Trasmissione, dove andremo a scortare sostanzialmente una sfera eterea fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda invece il resto delle dinamiche zombie, diciamo che avremo un cambio di vestito, se così possiamo definirlo, dei perk. Infatti al posto che essere in lattina o in bottiglia, potremo berli direttamente da una fontana speciale, e i perk saranno quelli classici come il Jug, Quick Revive, Speed Cola, Stamina, Deadshot, con però la differenza che saranno migliorabili direttamente in partita, acquistandoli più volte sempre dalla stessa fontana. Il primo sarà gratuito, poi upgrade dopo upgrade il costo aumenterà, fino ad arrivare a 7500 punti per un tier 4, e ogni volta che andremo a terra ci verrà tolto un singolo livello. Andando avanti abbiamo inoltre un'introduzione all'altare dei sacrifici, che ci costerà un cuore, ottenibile come ricompensa per aver completato gli obiettivi, che sostanzialmente andrà a sostituire le specialità che prima si trovavano nel pack a punch ad un costo di 2500 punti. Ne potremo ottenere massimo 3, e col passare dei round sbloccheremo anche le versioni epiche o leggendarie. Il che è tutto sommato sono novità che secondo me ci possono anche stare, perché vanno comunque a cambiare drasticamente le classiche dinamiche presenti più o meno in tutti i Call of Duty visti e rivisti, fondendo interessanti basi di Cold War con anche la grafica di WW2, che trovo eccezionale. Sicuramente la parte un po' più dolente, è che avendo la possibilità di fare solo 3 modalità che si ripetono insieme alle solite mappe, sarà molto semplice cadere nella monotonia e abbandonare tutto quanto. In compenso, se però pensiamo al futuro, dove ci troveremo con queste novità sommate round e vari easter egg, la situazione secondo me cambia e direi decisamente meglio, anzi tantissimo. Che poi magari chi lo sa, questa attesa di un paio di mesi servirà solamente per prepararci a dei contenuti più complessi rispetto a quelli di Cold War. Diciamo che scopriremo se ne verrà la pena solamente vivendo. Passando oltre, in questo periodo invece sto giocando moltissimo al multiplayer, modalità che contro ogni preavviso, soprattutto vista la beta, trovo abbastanza divertente, frenetica e devo dire anche che ha risvegliato un pochino il mio lato competitivo. In una settimana non ho provato proprio tutto, infatti cosa che trovo molto ironica, sto giocando praticamente alla stessa playlist di modalità, ovvero partita veloce, e tra l'altro anche con le stesse identiche armi dall'inizio. L'MP40 per le mappe un po' più piccole e frenetiche, e il car, quindi l'ultimo cecchino, per quelle più aperte e grandi. E con entrambe mi viene da dire davvero ma davvero non male. La cosa che forse all'inizio mi ha un po' disorientato e anche fatto incazzare è il time to kill, sì perché se per esempio state giocando con le armi e mirata la testa, la sensazione che più o meno si ha è quella di trovarsi in una partita in veterano, tempo 0-2 secondi e muori istantaneamente, serve quindi farci un po' l'abitudine diciamo. Come anche il fatto delle nuove scene, in cui si vota il miglior giocatore della partita, o il fatto che oltre ai classici livelli dovremmo aumentare anche quello degli operatori, per sbloccare skin, gesti, mosse o dialoghi. Carino come anche il fatto che hanno rimesso, simile a Modern Warfare 3, la possibilità di far parte di un clan, così da avere boost XP, ricompense, eccetera. E appunto ne approfitto anche per dirvi che ci sono ancora posti libri per entrare all'interno del nostro clan, o meglio chiamato Zombaroli Club, perché siamo più un gruppo di amici, una community al posto che è un clan competitivo o che si incazza, diciamo così. E niente, quindi siete benvenuti. Poi andando avanti abbiamo ovviamente la nostra dose annuale di camperoni, persone che vivono con lanciamissili, granate o sdragliate. Ma questo dobbiamo essere consapevoli che non dipende tanto dal gioco quanto dalle persone che lo utilizzano. Sempre a proposito delle armi, trovo invece assurdo il fatto che ci siano miliardi di mimetiche e che il livello massimo sia 70. Un po' troppo forse, ma vabbè, almeno gli amanti delle mimetiche finali avranno una vera sfida da completare. Invece poi, per quanto riguarda la campagna, diciamo che non mi ci sono dedicato particolarmente, ho giusto fatto due o tre missioni e da quel poco che ho visto mi sembra ok. Cioè nel senso buone dinamiche, una storia potenzialmente interessante e una grafica assurda. Cioè soprattutto le cinematiche che secondo me se messe insieme potrebbero tranquillamente fare un film. Non so, se voi per caso siete degli appassionati della campagna, non so, l'avete finita, comunque ci state spendendo molte ore, scrivetemi pure nei commenti qui sotto per condividere il vostro parere. Arrivati quindi alla conclusione, la mia risposta alla domanda se ne vale effettivamente la pena di acquistare Vanguard dipende. Se giocate maggiormente al multiplayer ve lo consiglio assolutamente. Se siete appassionati della modalità zombie, secondo me è meglio aspettare i primi aggiornamenti quando aggiungeranno mappe round-based, easter egg e tanto altro. E comunque in ogni caso, se siete incerti e siete delle persone che cercano sempre di ponderare bene i propri soldi, non vi consiglio di acquistarlo qualunque dubbi abbiate. Perché rischierete poi magari, non so, di pentirvene e dare anche la colpa a chi ha cercato di convincervi semplicemente per trovare qualcuno con cui giocare insieme. E niente, spero quindi che questo video ti sia stato utile, nel caso lascia un bel like, iscriviti per rimanere sempre aggiornato e scrivi pure nei commenti se hai già preso Vanguard, lo vuoi prendere, oppure anche semplicemente le tue considerazioni. Per il momento da Prisma è tutto, bella.